è la mia preferita slide questa non è i tasti si suona solo ma non me la vuol dare ho già provato in tutti i modi non riesco a corromperlo ma ogni tanto è certo che sarebbe bella però darla al musicista questa qui Debaldini cosa dici tu? perché Max mi piace molto la mia preferita no però sai Edeos per caso dai che sono materiali troppo preziosi perché questa è una gamba di una sedia di fatto le scatole dei torcetti al burro non ne trovo più come suonano quelli come suonano quella lì questa è stata usata nella registrazione il curioso del disco è che ascoltando non so se avete conto che gli strumenti sono fatti ma non so se volete colpo questo e che fa colpo il contrapasso il secondo contrapasso da un'unico dell'erroi dell'erroi lì che ti 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 ripoca arrivo perché queste qui anche per questo dobbiamo registrate acustiche perché questi microfonini che fa lui sono belli ma sono veramente di un casino da attaccare con lo così dobbiamo trovare un sistema adesso lo troveremo anche questo mettiamo dei baldini all'opera facciamo evitare il ruolo bene adesso va bene grazie a tutti 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 grazie a tutti